Musica Stolen carpar flutes Stolen carpar flutes Qual è che le volevo mettere? Uova di Lucchia Uova di Lucchia Uova di Lucchia Sì, lo volevo mettere Sì, questo sì Ciao ragazzi Ciao bello Grazie mille Ciao bello Ciao bello Ciao bello Che consiglio dareste a un musicista under 25? L'unico consiglio che potrei dare è quello di provarci sempre Non demordere alla prima sciagura o sventura che gli capita E soprattutto di non cedere ai ricatti del mercato musicale odierno Non è soltanto un fatto di ricatti del mercato musicale Ma anche cominciare dalle piccole cose Cioè quando si va in uno studio di registrazione Verificare come lavorano Perché è fondamentale Specialmente se sei molto giovane Spesso e volentieri se ne approfittano Questo per dirla proprio tutta quanta E poi curare soprattutto la voce Che è lo strumento umano La voce va curata e il cantante non va improvvisato Quando si mandano i pezzi da far ascoltare Devono essere pochissimi Molto mirati alle persone giuste E con il contenuto che si esplichi nei primi secondi Immediatamente il pezzo deve partire a bomba Non servono i lentoni lunghi Evitate di riferirvi a voi stessi come I ministri del Salento I Litfiba della Padania I Guns N'Roses del Molise No, cioè voi siete voi E basta È meglio essere precisi, diretti Noi facciamo rock, noi facciamo indie Noi facciamo pop, noi facciamo rap, noi facciamo R&B Questa è la nostra roba Siamo noi e basta